Il studio ci porta delle caratteristiche di pazienti assolutamente comparabili con dei risultati tra l'individual dosage di FSH e la standard dosage di 75 unità della mild stimulation. Ci va a vedere come l'appropriate variant response, che è la prima riga qui, è significamente migliore nelle pazienti che hanno adottato il protocollo di stimolazione individuale. Per l'appropriate si intende un numero di follicoli compreso tra 3 e 4. Vedete anche il risultato finale espresso in istogramma che ci conferma come il numero di 2-3 follicoli sia più facilmente raggiungibile qualora si utilizzi il protocollo individuale. Passiamo invece a quello che è la problematica della mild stimulation in fecondazione in vitro. Sicuramente un ruolo importante nel pensare di ridurre la quantità di farmaco nella stimolazione c'è stato così proposto dall'utilizzo dei generac antagonisti perché in qualche modo ci ha dato la possibilità di regolare il picco delle acri in una maniera diversa, ha aperto delle nuove fantasie nei ricercatori e nei clinici che si occupano di questo argomento. Sappiamo che anche gruppi italiani hanno cercato di modulare e di trovare una via differente a una stimolazione standard nei pazienti normal responder. Qui abbiamo i dati del gruppo di Filippo che ha proposto una cosiddetta minimal stimulation in pazienti normal responder con una stimolazione che sfruttava l'FSH endogeno nel reclutamento follicolare iniziale per poi sostenere nella late follicular phase con basse dosi di FSH proprio il reclutamento follicolare iniziale senza spingere troppo da un punto di vista farmacologico. E i risultati che Filippo ha pubblicato su Rebe Minerali del 2007 sono sicuramente risultati interessanti. Però anche lui conclude che chiaramente un solo studio senza la possibilità di avere studi clinici randomizzati non ci dà delle indicazioni definitive. Ci sono anche altri studi che hanno così proposto delle modifiche ai protocolli standard di stimolazione utilizzando sempre l'antagonista e iniziando la stimolazione con una ricombinante anche in quinta giornata. E i dati di questi studi ci fanno vedere come fondamentalmente sono più o meno comparabili i risultati in funzione delle diverse tipologie di stimolazione. Mentre chiaramente iniziando l'FSH in quinta giornata i giorni di stimolazione e il numero delle fiaie di FSH utilizzate sono sicuramente minori. Devo dire che la letteratura a volte è molto interessante perché quando uno poi si riguarda un po' tutti i dati come sempre riesce a trovare tutto e il contrario di tutto. Però anche studi recenti confermano che in alcune tipologie di pazienti, soprattutto nel normal responder l'utilizzo del mild stimulation può garantire dei risultati sicuramente accettabili e comparabili alle stimolazioni standard. La possibilità anche di gestire i side effects diventa molto più semplice. Come vedete ho cercato di essere molto breve perché siamo avanti con i tempi e anche perché ho paura della sentenza ma sono abbastanza fiducioso. Però il messaggio finale secondo me è molto semplice. Per quanto riguarda l'inseminazione penso che non ci sia quasi nulla da dire sulla necessità di utilizzare in questa tipologia di pazienti dei protocolli leggeri. Perché? Proprio perché l'obiettivo è totalmente differente. Per quanto riguarda il discorso delle fecondazioni in vitro secondo me qualora vi sia la possibilità di congelare ovociti visto i dati e i numeri che abbiamo visto stamattina che sono sicuramente affascinanti probabilmente gestire un numero basso di ovociti potrebbe non essere utile. Però visto che esistono molti centri che fanno fecondazioni in vitro e che non congelano probabilmente bisogna essere anche attenti a quello che possono essere i disconforti della paziente gli effetti collaterali della terapia e la possibilità di ridurre il drop out di queste pazienti. Vi ringrazio.